E mi ricordo quanto è successo questo fattaccio. Novembre 1946, un fatto di cronaca nera sconvolge gli italiani. 37 anni dopo, la portinaia ricorda. Ci ho detto, passerini, non aprono, c'è tutti i teruni. Sì, che aspetta che apre. E mi dice, sì, sì, vengo io, passerini, vado avanti lei prima. Ha aperto la porta, dice, Madonna Bonina, tutti morti. 30 anni della nostra vita è una nuova trasmissione della Rete 1. Stiamo preparando la prima serie dal 1946 al 1955. Avete un ricordo, una testimonianza, una storia che pensate sia interessante? Scriveteci, 30 anni della nostra vita, via Romagnosi 1, 00196 Rome. Potete raccontare voi stessi in televisione la vostra storia.